Un pericolo già denunciato che ad oggi rimane ancora irrisolto, un appello all'amministrazione comunale perché intervenga in fretta per risolvere la condizione di pericolo stradale di cui oggi è responsabile, in quanto ente proprietario della strada. E quanto arriva dal sit-in promosso da Stefano Pollegioni e dal direttivo dell'Udc di Fano, che assieme ad alcuni residenti hanno deciso di incontrarsi alla rotatoria di via Moriconi. Questa è una rotatoria che ha diversi problemi perché intanto è una strada che ha isolato in qualche modo un centro abitato che è quello lì di Rosciano con la città. Non sono stati fatti gli attraversamenti a raso, non sono stati fatti i percorsi ciclopedonali in sicurezza e in più qui abbiamo una rotatoria che non avendo una visibilità per chi viene da sinistra con un rettilineo crea non pochi problemi. Ultimamente c'è stato un incidente stradale molto importante, io direi annunciato, ce ne sono stati altri minori, non siamo stati ascoltati nel tempo, abbiamo fatto diverse segnalazioni. Io il 9 maggio del 2022, dopo che i cittadini mi hanno chiamato e segnalato questo per iscritto alla Prefettura e al Sindaco, non abbiamo avuto risposte. Per cui siamo andati avanti, abbiamo avuto rapporti, contatti con la società autostrade, siamo arrivati al collaudo di questa strada aperta nel 2019 e collaudata nel 2022. Abbiamo portato tutto questo lavoro in consiglio comunale permesso da Fratelli d'Italia e la consigliera Lucia Tarsi. Dopodiché, dopo il consiglio comunale è stato aperto un tavolo tecnico in assessorato al quale noi abbiamo partecipato. In quel tavolo tecnico si erano presi degli impegni. Ad oggi purtroppo non abbiamo avuto cenno degli impegni portati avanti. È successo in questo incidente molto importante e colgo l'occasione soprattutto per fare gli auguri di pronta guarigione alla signora, perché è una vittima, ripeto, di una situazione annunciata ormai da tempo. Voglio dire anche, ed è molto importante, che abbiamo fatto diverse denunce pubbliche e quindi che possono anche essere utilizzate, perché sono denunce a tutti gli effetti di questa pericolosità inascoltata fino ad oggi. Ad oggi chiedete appunto al Comune quella che è la situazione e anche qual è il risultato del tavolo tecnico, giusto? Sì, esatto. Allora, qui si sono fatte delle valutazioni insieme ai tecnici del Comune che devono essere portate avanti. La prima è quella di interessare la Prefettura perché valutano con un loro sopralluogo la possibilità di frenare in qualche modo la velocità delle autovetture nel rettilineo di via Moriconi in arrivo alla rotatoria di Rosciano 1. Poi c'è il problema delle barriere, queste barriere che impediscono la visibilità da chi proviene da Rosciano e si immette nella rotatoria, che è la causa maggiore del pericolo. E poi naturalmente parliamo degli attraversamenti pedonali e dei ciclo pedonali in sicurezza che sarebbero dovuti essere stati fatti o previsti in corso d'opera durante la costruzione di questa strada, ma sembrerebbe che questa previsione qualcuno l'abbia dimenticata nel cassetto e quindi adesso con il fatto del collauto e dell'assegnazione della strada al Comune spetta al Comune e a spese del Comune fare tutti quei lavori che prima avrebbe potuto fare la società autostrade. Grazie a tutti!